Si apri un attimo, guarda bene. No. Sì. Ok. Questo spremere fa entrare il colpo. Intanto si sente il fritto. Questa superficie è fatta per resistere a colpi perpendicolari. Quindi teoricamente tutti i miei colpi devono essere angolati. Questo lui lo tiene se è strutturato. Questo entra in più. Tutto in direzione. Quindi quando io, soprattutto a corta distanza, non ho tutto questo calentamento. Ho solo, se faccio questo, probabilmente, se aggiungo, comincia a entrare. Ed è solo il polso. Se ci metto questo più il polso, faccio danni. Perché questo è molto potente. Quindi, se sono così, invece, metto un po' di busto, un po' di questo, un po' di accelerato. Upa! Posso chiudere, ma devo metterci anche. Quindi ho questa forza, più questa forza. Adesso però, attenzione, perché cosa succede? Che tante volte faccio così, faccio così, e succede questo, no? Perché non ho? Allora, adesso vi mettete un po' su una parte non dolorante, se siete voi, e cercate l'idea di, come se dovessi infilare qualcosa in un taschino. Poesso, poesso, è così. Grazie. Grazie. Grazie.